E' un provvedimento che serve a battere la recidiva, più lavoro, più studio all'interno del carcere, evitare la passività e gli automatismi, cioè accedere a benefici anche quando non c'è stato un comportamento attivo e positivo del detenuto. Si tratta di un provvedimento che non svuota le carcere, che non salva i ladri, ma che rimette al giudice la valutazione del comportamento decorso un certo periodo della pena per consentire anche di utilizzare delle pene alternative e quindi di far sì che chi ha tolto qualcosa dalla società lo possa restituire con un comportamento attivo, con il lavoro e con altre forme di restituzione. Credo che sia un provvedimento molto importante che può aiutare a migliorare la sicurezza del nostro paese perché può abbattere significativamente la recidiva, che purtroppo è una piega che caratterizza il nostro sistema penitenziario.